Nel corso del nostro salvataggio abbiamo scoperto qualcosa di importante e sorprendente. Abbiamo scoperto che entrambi si assomigliano esattamente. Fio, la ragazza che è ancora viva, si è fatta perforare l'occhio da un vetro rotto e la sua unica possibilità ora è quella di procurarsi immediatamente un nuovo paio di corne in modo che possa vedere di nuovo quando si sveglia. Ho pensato, visto che la ragazza che se n'è andata l'ha protetta con la propria vita, sarebbe stato meglio donare le sue corne alla ragazza che è ancora viva. A presto! A presto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.